Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. A un mese dall'inizio della campagna olivicole in Abruzzo emergono i primi dati che dicono di un sensibile calo della produzione. Secondo gli esperti però la qualità resta invariata. A livello nazionale il calo è del 38% rispetto al 2017. L'Abruzzo ci attestiamo almeno 20% con 11.571 tonnellate raccolte rispetto alle quasi 14.500 dello scorso anno. La causa, secondo Giulio Federici, direttore di Col di Retti Abruzzo, non è da ricercare nelle bizze del clima o in qualche letale parassita. Si tratta di un'alternanza produttiva, dice, del tutto fisiologica. Dunque nulla di particolarmente allarmante. L'aspetto assolutamente importante da rimarcare, dice ancora Federici, è che la qualità resta su standard elevatissimi anche quest'anno, a dimostrazione del buon lavoro svolto dai circa 15.000 olivocoltori della nostra regione. In Abruzzo censite circa 6 milioni di piante su un'area di 46.000 ettari, 350 frantoi e bene tre dop tra Chieti, Pescara e Teramo. E' boom in Italia e anche in Abruzzo di grani antichi come il senatore Cappelli che nel 2017-2018 ha aumentato del 400% le superfici coltivate, passando dai 1.000 ettari del 2017 ai 5.000 attuali, di cui circa il 10% proprio in Abruzzo, trainato dalle crescente interesse per la pasta, 100% italiana e di qualità. Il dato emerge da un'analisi col diretti in occasione della World Pasta Day, cioè la giornata mondiale della pasta, celebrata in tutto il mondo il 25 ottobre sulla base di dati di consorzi agrari d'Italia e SIS. Col diretti rileva che l'Italia è il principale produttore europeo e il secondo produttore mondiale di grano duro, destinato alla pasta con 4,3 milioni di tonnellate, su una superficie coltivata pari a circa 1,3 milioni di ettari, che si concentra in particolare nell'Italia meridionale. Gli italiani, sempre secondo Col diretti, sono i maggiori consumatori mondiali di pasta, con una media di 23 kg all'anno pro capite. La cronaca appello in diretta nella puntata di ieri sera su Rai3 di chi l'ha visto per Anca. Il cognome non è stato specificato, una ragazza di 16 anni che sarebbe scomparsa da San Salvo il 3 settembre scorso. La conduttrice Federica Sciarelli ha spiegato che i genitori la stavano aspettando, ma che la giovane non è mai arrivata. Anca ha capelli rossi e occhi castani ed è alta, 1,65 m. La Regione non paga i danni civili per gli incidenti causati da animali selvatici, in particolare cinghiali, anche se ci sono sentenze quasi sempre di condanna. Ricorre in Cassazione anche in caso di doppia conforme a sfavore, cioè di due giudizi di condanna consecutivi. In un caso di questo tipo la Regione Abruzzo non ha pagato e la ricorrente che si è affidata all'Adusbef ha ottenuto dal giudice l'appignoramento. Al vaglio del Tribunale un incidente stradale avvenuto a San Demetrio nei Vestini, causato da un cinghiale che attraversò la strada. La conducente dell'auto non riportò ferite, ma l'automobile fu danneggiata e fu chiesto un risarcimento di circa 5.000 euro. Il Teatro Marruccino riapre i battenti e lo fa venerdì 2 novembre con la prima dell'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi in collaborazione con la Fondazione Rete Lirica delle Marche. Ieri il presidente vicario della Regione, Lolli, è andato personalmente a consegnare al direttore amministrativo Di Martino la copia della delibera di giunta 795 del 23 ottobre che viene pubblicata in queste ore e che prevede finanziamenti con attività dirette ai migliori progetti dei comuni con valenza storica. Nel dettaglio al Marruccino spettano 3.300.000 euro, mentre 50.000 euro ciascuno sono assegnati al mastro giurato di Lanciano, la giostra cavalleresca di Sulmona e alla perdonanza celestiniana dell'Aquila. In più Lolli si è impegnato a far arrivare altri 200.000 euro al Teatro Tiatino dal Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo e dall'assestamento di bilancio che il Consiglio regionale dovrebbe votare a stretto giro. Voucher per le donne occupate, disoccupate, impegnate in attività di cura di minori, anziani non autosufficienti e disabili. Saranno dati dal Comune di Pescara con Redoc, Reti di conciliazione per le donne. Il progetto presentato dall'ECAD 15 Pescara in qualità di capofila è realizzato in associazione temporanea di scopo con ECAD 16 che riunisce altri enti e associazioni. Il progetto è finanziato dal Dipartimento Politiche per la Salute e Welfare della Regione. Il bando è stato pubblicato sul servizio del Comune e su quelli del partenariato. Tempo fino al 7 novembre per le domande. I requisiti per accedere sono questi. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte dell'Unione Europea ma con regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni dalla data di presentazione dell'istanza e residenza nel Comune di Pescara, ECAD 15. Le donne occupate dovranno essere lavoratrici dipendenti anche con contratto di lavoro atipico o lavoratrici autonome, avere ISEE non superiore a 26.000 euro. Poi dovranno avere a carico almeno un convivente, cioè un figlio tra gli 0 e i 12 anni, anche gli affidatari, un familiare in possesso di certificazioni di invalidità civile superiore al 74% o un familiare diversamente abile in possesso di certificazione e sensi della legge 104. Le donne disoccupate dovranno frequentare un'attività di formazione o essere titolari di una borsa lavoro tirocinio formativo e di un ISEE non superiore a 18.000 euro, oltre ad avere anche gli altri requisiti previsti. Sopralluogo ieri a Pescara del Vice Sindaco Blasioli e dell'Assessore Cimiteri Scotolati nella struttura di Colle Madonna in vista delle ricorrenze dell'1 e 2 novembre insieme alla Direttore Generale di Attivo S.p.A. del Bianco e al personale della struttura. Partiranno il 27 ottobre e andranno avanti fino al 2 novembre le discipline di aria nel circondario di Cimiteri Cittadini per la ricorrenza della commemorazione dei defunti, hanno detto. Abbiamo eseguito un sopralluogo nei cimiteri riaperti dopo il maltempo che ha provato la viabilità cittadina e il nostro verde. A proposito di maltempo, riaperte anche le golene sul fiume Pescara. Tornando ai cimiteri, per quello di Colle Madonna, istituito senso unico in via Colle di Mezzo tra via Cettoni e via Pandolfi in direzione di marcia est-ovest a salire. E poi anche senso unico di marcia in via Tiberia scendere. Partiranno dopo la commemorazione dei defunti i lavori di messa in sicurezza per rendere agibile anche quest'area. Per il cimitero di San Silvestro istituito il divieto di fermata sui due lati di via Luciani per consentire la percorrenza su entrambi i sensi di marcia, mentre nel tratto di via Vallelunga la direzione di marcia sarà a Maremonti nel tratto compreso tra l'ingresso del nuovo cimitero e Colle Renazzo. Nell'approssimarsi della giornata nazionale delle offerte per il clero il prossimo 25 novembre, d'intesa con l'Arcivescovo, si è programmato un incontro per riflettere sul tema 8 per 1000 offerte deducibili, il punto della situazione. Gli incontri ci saranno in due zone del territorio della nostra Arcidiocesi e precisamente martedì 13 novembre alle 20.30 nella parrocchia di San Massimiliano Colbe a Penne per le foranie di Penne, Cermignano e Castiglione Messerraimondo e giovedì 15 novembre sempre alle 20.30 al centro pastorale Monsignori Annucci in strada Colle San Donato 56 a Pescara per le foranie di Pescara, Montesilvano, Spoltore, Cepagatti, Città Sant'Angelo e Torre dei Passeri. Gli incontri si chiuderanno con l'Agape Fraterna lo fanno sapere l'incaricato e l'equip diocesana del sostentamento del clero. E appunto andiamo avanti col giornale questa amministrazione è la sola che in 40 anni ha effettivamente affrontato gli allagamenti delle traverse del lungomare programmando e avviando interventi di protezione civile concreti per risolvere l'annosa problematica tutelando i residenti di quelle zone. Lavori non ancora conclusi ma siamo certi che una volta completati gli interventi e soprattutto una volta che tutti i soggetti di competenza metteranno in atto ciascuno le opere necessarie i risultati diventeranno evidenti. Lo afferma l'assessore alle politiche di efficientamento del sistema smaltimento acqua del Comune di Montesilvano Annalisa Fumo Ieri in regione la ditta incaricata di Reggio Emilia giudicataria dell'appalto ha illustrato gli interventi di riqualificazione dell'ex fea di Pescara nel complesso immobiliare di 8.500 metri quadri abbandonato dal 63 sarà realizzato uno spazio durante l'anno in cui i prodotti tipici abruzzesi selezionati abbracceranno la cultura con mostre, eventi e concerti. La società dovrà avversare un canone di 15.000 euro l'anno alla Regione si è impegnata a investire dai 3 ai 4 milioni per riqualificare l'area i lavori dovranno essere ultimati entro i primi tre anni dalla firma del contratto. Oggi è giovedì 25 ottobre nella Regione Ecclesiastica Abruzzese e Molisana in tutte le chiese consacrate di cui non si conosce la data di dedicazione escluse cattedrali e concattedrali si celebra la solennità dell'anniversario della dedicazione della Chiesa. Siamo al meteo oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo poco nuvoloso fin da metà mattino e sereno nel resto della giornata con temperature da 14 e 19 gradi e 20 deboli e nelle zone interne cielo sereno con temperature da 12 e 19 gradi e 20 deboli mare poco mosso. È tutto per questa edizione del nostro notiziario a voi tutti grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.